C'è una sentenza che ha dato ragione ad un operatore privato secondo la quale un operatore privato può liberamente sulle tratte commerciali, quindi non contribuite dalla regione, attivare un servizio. Noi avevamo contestato questo servizio di natura commerciale perché è già servito con il TPL, cioè con il trasporto pubblico locale, perché ci sono abbonati, ci sono pendolari, ma il TAR prima e il Consiglio di Stato dopo hanno ritenuto che invece ci vige in questo caso la regola del libero mercato. Sono queste le dichiarazioni che stanno sollevando polemiche tra sindacati e Regione Abruzzo nel tavolo svoltosi il 23 marzo scorso alla presenza del presidente tuo, Luciano D'Amico, del consigliere con deleghe trasporti Camillo D'Alessandro e i rappresentanti dei sindacati. Era in discussione il rischio che un vettore privato si mettesse in concorrenza al trasporto pubblico locale, sovrapponendosi alle corse regionali a prezzi stracciati. Un euro per la tratta L'Aquila-Roma, con tanto di foto dei mezzi pronti nel deposito di L'Aquila. La richiesta dei sindacati alla Regione è stata quella di intervenire per colmare il buco normativo che aveva lasciato spazio ai vettori privati. Per i sindacati era chiara la responsabilità della Regione per non aver legiferato in merito di piano regionale trasporti, programma triennale dei servizi e piano dei servizi minimi, consentendo dunque al vettore privato di ottenere un giudizio favorevole alquanto scontato da parte della magistratura. Nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni, il consigliere D'Alessandro parla di una sentenza del Consiglio di Stato che ha di fatto confermato il giudizio espresso dal Tar. La Filt CGL va alla ricerca di quel documento e scopre invece che quella sentenza non è mai esistita. In definitiva, scrive in un comunicato, sembrerebbe che il vettore privato stia attualmente operando su tratto oggetto di contribuzione regionale senza le opportune autorizzazioni. La questione diventa un caso. Perché D'Alessandro ha fatto quelle dichiarazioni? Una informazione falsa che, alla luce dei fatti, renderebbe illegittima la presenza del contestato vettore low cost. Per tali ragioni, la Filt CGL Abruzzo, unitamente alla Confederazione regionale, sta predisponendo una lettera aperta indirizzata a tutti i capigruppo presenti in Consiglio regionale, affinché si torni ad affrontare subito la discussione, compreso il rischio di danni economici al settore, dovuto all'ingresso di competitors privati.